Questa dinamica del civico sul politico? Ma guarda, il titolo che mi viene in mente è Non si uccidono così anche i cavalli che è un vecchio film è un vecchio film, ma sai perché lo dico? Perché mi pare che i partiti non abbiano il coraggio di schierare dei numeri uno cioè, per carità, non voglio entrare diciamo nel merito di giudizi su quelli che saranno i candidati ma fino adesso io non vedo nessun partito che ha avuto, diciamo, da una parte il coraggio di schierare dei nomi dei big e dall'altra i big che si sono tirati indietro Questa cosa mi fa pensare che ci sia, diciamo da una parte anche un po' paura ad andare a fare il sindaco soprattutto in città, per esempio, come Roma che è una città molto complicata Non c'è dubbio Allora, andiamo... Che succede adesso? Prima di andare in pubblicità vi faccio vedere questo flash dell'agenzia La Press Copasir, quindi il comitato parlamentare